Un paese come l'Italia, che ha un potenziale enorme di sviluppo umano integrale, non riesce ad uscire dalle secche di una situazione di quasi stagnazione, questo è il punto, perché se noi fossimo un paese che non ha potenziale perché è difetta di questo, di capitale umano, ma come? Abbiamo un capitale umano che il mondo intero ci invidia, tanto è vero che quando i nostri italiani, soprattutto giovani, se ne vanno all'estero vengono subito catturati, hanno successo e vengono altamente rispettati e noi non sappiamo valorizzare queste risorse umane, ma dico questo è inaccettabile, nonostante si conoscano le cause, nonostante il fatto che il potenziale è enorme, non si stia facendo nulla a livello propriamente politico per modificare la situazione. La gente sta prendendo atto appunto che questa situazione non può essere ulteriormente dilazionata.